Volevano visitare i campi di battaglia in Ortigara, ma si sono persi. In difficoltà sette ex alpini lombardi arrivati in Pullman a Campomulo. Al momento di rientrare a un bivio hanno sbagliato direzione. Dopo aver camminato per diversi chilometri, siccome uno di loro era particolarmente stanco e vista anche ormai l'ora, erano già le 21, hanno chiesto aiuto ed è stato attivato il soccorso alpino di Asiago. Dopo essere risaliti al punto in cui si trovavano due squadre li hanno raggiunti in fuoristrada, riaccompagnati a Malga Mandrielle e li hanno portati attorno alle 23 direttamente a Gallio, dove sono risaliti in corriera per il rientro a casa.